Le passioni umane sono una cosa molto misteriosa e per i bambini le cose non stanno diversamente che per i grandi. Coloro che ne vengono colpiti non le sanno spiegare e coloro che non hanno mai provato nulla di simile non le possono comprendere. Ci sono persone che mettono in gioco la loro esistenza per raggiungere la vetta di una montagna. A nessuno, neppure a se stessi, potrebbero realmente spiegare perché lo fanno. Altri si rovinano per conquistare il cuore di una persona che non ne vuole sapere di loro e altri ancora vanno in rovina perché non sanno resistere ai piaceri della gola o a quelli della bottiglia. Alcuni buttano tutti i loro beni nel gioco oppure sacrificano ogni cosa per un'idea fissa che mai potrà diventare realtà. Altri credono di poter essere felici soltanto in un luogo diverso da quello dove si trovano e così passano la vita girando il mondo e altri ancora non trovano pace fino a che fino a quando non hanno ottenuto il potere. Insomma, ci sono tante diverse passioni, quante diverse sono le persone. Per Bastiano, Baldassarre e Bucci la passione erano i libri. Chi non ha mai passato interi pomeriggi con le orecchie in fiamma e i capelli ritti in testa, chino sul libro, dimenticando tutto il resto del mondo intorno a sé, senza più accorgersi di aver fame o freddo. Chi non ha mai letto sotto le coperte al debole bagliore di una minuscola lampadina tascabile perché altrimenti il papà o la mamma o qualche altra persona si sarebbero preoccupati di spegnere il lume per la buona ragione che era ora di dormire dal momento che l'indomani mattina bisognava alzarsi presto. Chi non ha mai versato, apertamente o in segreto, amare lacrime perché una storia meravigliosa era finita ed era venuto il momento di dire addio a tanti personaggi con i quali si erano vissute tante straordinarie avventure, a creature che si era imparato ad amare e ammirare, per le quali si era temuto e sperato e senza le quali di improvviso la vita pareva così vuota e priva di interesse. Chi non conosce tutto questo per sua personale esperienza costui molto probabilmente non potrà comprendere ciò che fece allora Bastiano. Fessava il titolo del libro e si sentiva percorrere da vampate di caldo e di freddo. Questo, ecco, proprio questo era ciò che lui aveva sognato tanto spesso e che sempre aveva desiderato da quando era caduto in preda alla sua passione. Una storia che non dovesse mai avere fine. Il libro di tutti i libri.